Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona è dedicata alle retro riviste di informatica Akorn User, gennaio del 1984 questa è la prima delle tre riviste del brand Akorn User che andremo rapidamente a esplorare per vedere di cosa parlavano in Gran Bretagna la rivista Akorn User nel gennaio del lontanissimo gennaio del 1984 Electron, un'interfaccia veloce Voice, come separare le parole Grafica, utilizzando l'Assembler Games, Akorn, Soft, Secrets quindi i segreti della Akorn Soft andiamo a vedere poi in più in dettaglio ok, qui già si vede praticamente i prezzi dell'epoca, del tempo questi sono tutti in lire e sterline ok, le notizie, software, 20 software vinci un BBC Micro, tecniche una serie diciamo di giochi di gioie, trucchi e trucchetti processare la parola scrivere giochi interfacce elettroniche un spazio posta dei listati, alcuni giochi codici, macchine, grafiche di nuovo spazio con i lettori scuola recensioni di stampanti ancora spazio praticamente al forum per le discussioni e delle avventure poi abbiamo spazio World Process programmi per la scuola alcune recensioni specifiche di programmi, giochi e quant'altro un gioco di scacchi spazio con le lettere gruppi di discussione annunci gratuiti ok, andiamo un po', sono circa 200 pagine forse un po' meno di 200 pagine andiamo a vedere ok, questa è una propicità del BBC Micro Acorn Master ok, un po' di notizie che venivano date in relazione al mondo diciamo dell'informatica nello spazio dell'inizione dell'Acorn cosa succedeva vari progetti chi aveva fatto cosa nuove interfacce e quant'altro mescolato con pubblicità disk drive da comprare eventualmente una competizione vinci una BBC Micro e una stampante qui c'era da fare una serie di cose era un concorso qui vari prodotti utilizzare la grafica qui spiegava diciamo i concetti generali brevemente dei listati e poi pubblicità diciamo il stack diciamo per quanto riguarda elementi basici degli stack quindi praticamente delle pile di informazioni ok e poi veniamo un po' che cosa c'è dei listati trucchi e trucchetti qui si parla di teletext dei caratteri colori di sottofondo e varie altre cosine parlami le limitazioni del vocabolario del BBC Micro ossia come far pronunciare le parole al computer va bene quindi sintetizzatori vocali diremmo oggi i primi approcci che venivano fatti con un lungo listato che veniva dato snappy writing questo è probabilmente un penso sia un word processor veniamo un po' questi sono spazi giochi parte parallele con dei listati vari listati protezione dei programmi che venivano data per evitare le copiature la vita nelle variazioni quindi praticamente una specie di primi giochi in formato tamagoshi a livello di microbo quindi una simulazione questa cosa qui l'abbiamo ritrovata poi anche un po' nel un articolo di super apple nei numeri nei primi numeri un classico gioco di battle plan e qui è defense com si comincia a rivedere un po' di cose come spiegarlo come costruire il videogioco con il relativo listato che veniva dato in bundle quindi veniva spiegato come fare il gioco del treno qui abbiamo una pubblicità di un bel bbc acorn master con il relativo monitor del tempo un po' di listati che venivano dati che venivano dati altri listati c'era parecchie di listati devo dire codice macchina e grafica qui si entra un po' in vari erudimenti a livello pratico con dei programmi che mescolavano linguaggio macchina e basic e l'utilizzo di fare esperimenti con la grafica pubblicità listato che continua dove mettere il codice macchina qui veniva spiegato un po' che di natura dei microprocessori di nuovo il bbc acorn master con dischi che tira tre e mezzo tecnologia e il suo contesto come fare diciamo un budget per l'acquisto delle rote ma andiamo un po' ma questo forse per quanto riguarda un programma di grafica a livello di morfologia bene geografia descrittiva avventure di natale e qui si incomincia un po' di recensioni e trucchi per quanto riguarda i giochi 5 pack kong variant goodies e va bene trackman tool eccetera mescolato giochi utility un po' mescolato tutto insieme con pubblicità va bene il link per scaricare altri numeri della rivista lo trovate in descrizione ricordatevelo sempre un gioco sui scacchi eccoci qua in approfondito negli scacchi con tanta pubblicità quindi vuol dire che era sicuramente una rivista letta decisamente letta e comprata con una massa di pubblicità che ci aveva dentro si capiva che c'erano tanti utenti del BBC Apple Master che compravano questa rivista spazio per quanto riguarda un po' gruppi di discussione club dei contatti qui ce n'erano parecchi accidenti in cui contattarli e poi eventualmente foraggiarsi con del software annunci gratuiti ecco i guai il mercatino ce n'erano parecchio ancora chi continua il mercatino ancora il mercatino e poi ok andiamo alla prossima rivista febbraio 1986 Acorn user una stellina e 20 eccoci qua c'era in copertina un bel a BBC Acorn Master con il suo tasterino tasti funzione colorati e vi dicendo questo lo ritroveremo paro paro rivestito in un case falsamente diciamo diciamo che ricordava una computer aperta in realtà era un computer chiuso dentro il marchio dell'olivetti PC 128 S protest andiamo a vedere di che cosa parlavano del febbraio del 1986 su Acorn user ok veniamo un po' pubblicità colori nuovi utenti business educazione varie recensioni e altri articoli circa 200 pagine di roba quindi una bella rivista decisamente cospicua con varie recensioni RAM hardware software ok andiamo a vedere con anche anticipazioni per il prossimo mese addirittura ok vediamo un po' cosa c'era parecchia pubblicità master il nuovo BBC Acorn master viene presentato qui informazioni su BBC Acorn inside the master box dentro il case del nuovo master cosa c'era ecco qui nuovi inserimenti sulla scheda madre che danno più potenza alla macchina e qui abbiamo praticamente il relativo computer ok parliamo un po' che cosa c'era accidenti con parecchia pubblicità quindi la rivista era indubbiamente vista nuovi chip che trasformano la scheda madre qui venivano spiegati cosa era cambiata della scheda madre varie altre informazioni mescolate nella pubblicità accidenti quanta pubblicità c'era una rivista indubbiamente super comprata super letta dalla pubblicità che c'era sembra quasi di stare su MC che non finiva mai come pubblicità allora vediamo un po' cosa c'è dal prossimo articolo questa è pubblicità addirittura dischi drive si apisce se questi sono articoli o pubblicità probabilmente pubblicità nuovi dischi winchester fissi esterni indirizzi di hardware dove comprare le cose è un mercato fervente quello inglese trucchi e trucchetti eccoci qua questa è sicuramente la rivista con veniva first byte il primo informazione sul byte come velocizzare una serie di cose quindi utility che potrebbero essere collegate per ottimizzare varie specifiche e risolvere problemi grafici qui abbiamo lo spazio delle lettere lettere con le qui varie lettere con domande risposte e quant'altro interazione con gli utenti pubblicità di nuovamente pubblicità accidenti quanta pubblicità che c'è mamma mia non finisce mai più io e il mio computer bbc micro qui racconta diciamo l'autore christopher word diciamo le sue esperienze con la macchina cosa fare e qui probabilmente parlano di grafica suppongo va bene altre informazioni settaggi come migliorare praticamente lo schermo e l'efficacia dello schermo con i colori espandere il proprio basic con comandi o altre utility ad hoc rom 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 quindi aggiungere il rom cosa mettere varie utility competizioni la decifrazione dei dati qui parlare praticamente con una serie di persone spazio diciamo giochi game games che veniva dato un corso veramente un gioco vediamo un po' pubblicità speciale cassette che si poteva comprare sia i rischi che cassette in un po' di listati che si compravano se no si poteva le assette pagine gialle con i listati qui venivano dati finalmente i listati c'entri quanti ce n'erano quindi questa roba o la si metteva e la si trascriveva a mano oppure si comprava sul cassetto o sul disco chiaramente andava pagata comunque per quelli più corti si potevano inserire per quelli più lunghi a seconda della efficacia forse del programma cosa prometteva di fare forse si poteva anche comprare come espandere la ram uno spazio di forum per quanto riguarda domande risposte acquisti consigli una bella rivista decisamente molto letta molto ampia si vede dalla pubblicità con tante rubriche grande spazio quindi una bella rivista questa indubbiamente ai suoi anni a suoi tempi era una bella rivista business quindi computer business andiamo dritti ai dati quindi dati per probabilmente un database statistiche programmi spreadsheet eccoci qua ok veniamo un po' sempre le informazioni che continuano nel mondo business cpm spazio pulizia cpm e altre cose vari programmi sotto cpm di nuovo pubblicità mamma mia quanto ce ne ha di pubblicità su questa rivista spazio educazioni quindi si comincia a dare un po' di informazione a livello per quanto riguarda di educazione programmazione database come utilizzarle non solo programmazione ma anche utilizzo praticamente dei dati degli applicativi degli integrati recensioni di giochi secret of the master moon phantom crashland fantastic filmmation fast and ultimate classic gauntlet acres of action e un po' di recensioni di libri dove comprare i libri cosa comprare di cosa parlavano quanto costavano mescolati con la pubblicità e qui si parla dell'articolo della musica computer e musica vediamo un po' ancora recensioni di libri pubblicità una recensione di recensioni di joystick indubbiamente i joystick erano importanti per un computer all'acqua così come oggi lo sono per le playstation hardware i disk drive quindi si parlava di testine e di disk drive perché anche se questo non è un problema che toccava gli accord indubbiamente i comdor c'avevano dei disk drive che facevano veramente pena spazio gruppi di discussione quindi andiamo annunci gratuiti per i mercatini piccoli annunci di hardware software accord user nuove informazioni e ok andiamo a vedere l'ultimo numero della rivista passiamo oltre ultimo numero di accord user questo è del gennaio del 1988 ricordatevi che se volete andare a scaricare altri numeri in formato pdf gratuito di accord user il link lo trovate in descrizione che cosa parlavano sulla rivista accord user una rivista britannica nel gennaio 1988 di un telemando per il computer un po' di grafica software diciamo della bbc per quanto riguarda radio e tv applicazioni un po' di codici macchina portatili quindi praticamente trasportare file sopra lo z88 step by step come disegnare sulla bbc accord ok andiamo a vedere questa rivista più in specifico pubblicità ecco abbiamo spazio nuovi utenti una serie di recensioni di giochi di software di libri di libri di software spazio per il business educazioni e una serie di rubriche standard sono circa 200 pagine con uno speciale sul praticamente un micro il bbc micro una sorta di portatile protoportatile un po' di roberforce che probabilmente è un gioco e poi abbiamo delle stampanti e dei ciclo ok andiamo a vedere che cosa si parla addirittura con l'anticipazione del prossimo mese ok andiamo a bomba perché c'è parecchia pubblicità se hai già visto in quel numero precedente questa è una vista molto letta e quindi c'era parecchia roba ecco qui c'è risk user eccolo qui qui già si incomincia a parlare di risk user e la pubblicità del niente proprio di meno dell'Archimedes quel microprocessore di Archimedes con il microprocessore risk da paura vediamo un po' un po' di informazioni generiche su diciamo i bimbi a scuola sulle applicazioni che potevano essere date i vari hardware esterni che potevano essere con un disco fisso e un disk drive da mettere sopra il computer bello questo case metallico che si installa ora sotto il BBC Acro che qui dava un tutt'uno e poi abbiamo eccole qui il grandissimo Archimedes aggiornamento appena uscito o perlomeno da poco nuovi rilasci e con il software in catalogo per l'Archimedes guarda là c'era già il sistema operativo a finestre con il mouse a tre tasti grandissimo e questo era già delle proprietà dell'Olivetti e l'Olivetti questo lo poteva vendere in Italia tanto non era compatibile con praticamente con nessuno ma avrebbe sicuramente dato del filo d'attordine alla Minga 500 e invece 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 nulla comunque se volete espandere questo tema ci ho fatto parecchi podcast sopra quindi continuiamo a sfogliare la nostra rivista che dà altre informazioni su stampanti pubblicità dell'Archimedes che indubbiamente veniva spinto in Gran Bretagna c'erano mouse c'erano stampanti c'era sistema operativo c'era disk drive fissi da 5.25 da 3.5 c'era un mondo di roba da comprare ok vediamo addirittura modem software componenti e quanta monitor vabbè qui sono altre speriferiche tutte per l'Archimedes quindi indubbiamente di roba accenere accenere come offerte sconto anche per un po' vestire il busto chissà cosa sono vabbè e poi abbiamo un po' di ecco spazio con gli utenti spazio lettere di nuovo pubblicità accidenti spazio con le lettere e quindi trucchi e trucchetti trucchi e trucchetti ok andiamo oltre first byte una serie di spazi relativi praticamente all'utilizzo del microprocessore vediamo un po' qui sono probabilmente i status register e si dà un'informazione sui primi codici mescolati praticamente con dei programmi basic in modo forse da fare un po' di specializzazione vediamo un po' spazio del forum discussioni e poi di nuovo pubblicità bomba era super letta questa rivista accidenti quanta pubblicità che c'ha mamma mia vera non finisce più o in meno boi ragazzi quando lì quante pubblicità ce n'era di utenti in Gran Bretagna che leggevano una rivista con il user accidenti non si finisce più di pubblicità ho un telecomando per il computer cosa farci per farci cambiare il canale e per fare altre cose va bene e qui si un progetto di eventualmente sviluppare questo probabilmente era una sorta di gioco di simulazione che veniva spiegato come farlo con l'archimedes e poi andiamo oltre cosa c'è con una competizione di giochi competizione di giochi in estate e poi pubblicità pubblicità questo è praticamente un codice macchina per inserirlo in un gioco di natale quindi probabilmente una colonna sonora comunque altre cose su come fare come viene spiegato praticamente a livello di subroutine e poi probabilmente arriverà il listato come viene spiegato snocciolato con negativi sprite un piccolo portatile con un monitorino orrendo acquarsi va bene comunque erano quello che erano pubblicità ecco il listato di velo di prima per trasferire file pagine gialle cosa c'è altri listati qui si incominciano listati con piccoli giochi utility e quant'altro uno di questi io se li inseriva a mano oppure li comprava su cassetta oppure su disco da 3 e mezzo da 5 e 25 specialmente vedo lì che è mazzata di roba questa roba vi ci voglio voi a vedere se scrive tutta questa roba in codice macchina anzi no questa era la basic con tutta questa roba di dati che conteneva praticamente codice era meglio comprarlo piuttosto che stare a cavarsi l'oste che pensi di tutta per la roba di offerte offerte commerciale vi mescolate fra i giochi pubblicità tutto insieme di nuovo la pubblicità di rivenditori con stampanti indubbiamente era super letta uno spazio recensioni per i giochi qui abbiamo del sentinel fire truck stark quake impossible mission versione us gold ravenskull ravenskull pardon thunderstruck arkanoid arkanoid è famosissimo rapton 3 plan b e poi un po' di recensioni per quanto riguarda trucchi e trucchetti su giochi di ruolo e di avventure su come uscirle recensioni software recensioni di libri da comprare hardware recensioni di microprocessori di chip e quant'altro da comprare schede di espansione o chip da mettere sulla propria macchina software da comprare offerte speciali della pubblicità che genera tonnellate recensioni software per quanto riguarda il bbc hacker master per quanto riguarda la grafica utilizzo della grafica una specie di proto desktop publishing business più idee per il avere più idee cioè come avere più idee accord user readers ossia idee innovative per cercare nuovi utilizzi abbiamo un po' educazione si parla di educazione di pubblicità l'utilizzo nel computer nelle scuole circuiteria dei progetti pratici su come fare piccoli progetti di educazione diga elettronica eccoci qua sempre progetti di educazione qui si dà contemporaneamente si faceva informazione elettronica spazio per i piccoli annunci e poi basta ok speriamo anche per questa puntata è finita se volete andare a scaricare altri video della bella rivista britannica Accord Newser il link lo trovate in descrizione ciao alla prossima ciao 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 ciao